Il certificato verde è pure per farsi belli dal 20 di gennaio. L'introduzione del Green Pass base per poter accedere ad estetisti e parrucchieri è stato accolto con favore dalla maggior parte degli appartenenti alla categoria. Sono luoghi in cui i trattamenti estetici pretendono il contatto fisico con il cliente sia per gli estetisti che per i parrucchieri. E se dal parrucchiere la mascherina si può utilizzare e si deve tenere sempre dall'estetista, ci sono delle circostanze come i trattamenti viso in cui il cliente deve obbligatoriamente toglierla. Noi siamo molto contenti perché è uno strumento molto utile per tutelare noi e le nostre clienti. Il provvedimento è arrivato un po' tardi, noi l'avremmo accolto anche prima. Tengo a precisare però che non è un fatto discriminatorio, ma in una pandemia bisogna tutelare la salute di tutti. Però la preoccupazione è anche quella del dilagare del lavoro nero e senza controlli sanitari, parrucchieri ed estetisti che lavorano a domicilio. Diciamo che io ho due punti di vista su questo tema. Uno è quello sanitario e quindi ovviamente ti dico che sono assolutamente d'accordo perché questa situazione va controllata e la gente, comunque anche le nostre clienti, si sentono più al sicuro se comunque sono in un posto dove c'è il controllo del Green Pass e quindi gente vaccinata o tamponata. Dall'altra faccia della medaglia è il lato economico, quindi sicuramente ci sarà una perdita per me, per tutti i miei colleghi, anche per le estetiste, di persone magari no vax che non faranno un tampone al settimana per andare dal parrucchiero o dall'estetista. Quindi questo magari comporterà anche il fatto di incentivare il lavoro in nero che spero vivamente che non succeda.